ragazze buonasera ragazze e ragazzi come state ho sentito il bisogno di condividere con voi questa questa mia conosce queste mie conoscenze questa mia esperienza con il mondo fantastico delle energie femminili e ieri ho pubblicato un post e questo post diceva che gli uomini si meri buonasera meri stava ieri nella diretta gli uomini si innamorano quando praticamente tu cioè si innamorano non per quello che ma per quello che tu e non e non non per quello che tu fai ma per quello che tu sei e quindi dice in questo posto dice io spiegavo ragazze comunque non dovete pensare a dare perché se date in continuazione agli uomini che è un errore che facciamo tutte quante è una cosa che facciamo tutte perché dentro di noi esistono diversi archetipi c'è l'archetipo della madre c'è l'archetipo della maga c'è l'archetipo della seduttrice dell'imperatrice l'archetipo della priest adesso non mi ricordo come si traduce in italiano comunque ci sono diversi archetipi molte volte noi con gli uomini tendiamo ad attivare troppo l'archetipo della madre e una madre che cosa fa buonasera irene una madre si vuole occupare di suo figlio e per una madre amare vuol dire donare dare le sue attenzioni le sue cure dare il cibo dare il riparo dare in generale ti si vede solo un orecchio l'altro orecchio non si vede così è meglio quindi per una mamma amare vuol dire donare mia mamma per esempio quando prepara mio fratello non cesta in polonia e lei per dimostrare il suo amore a mio fratello gli prepara dei cesti giganteschi di roba dove mette di tutto e il donare è una cosa molto materna però noi diciamo quando conosciamo un uomo comunque abbiamo una relazione tendiamo per lo più ad entrare in questa modalità delle giver delle madri perché magari è un tipo di amore io mi arrivo diciamo che queste cose vi sto dicendo un po le ho studiate un po le ho interiorizzate un po mi arrivano così quindi prendetele per come mi arrivano quando appunto durante le relazioni ecco cinzia ciao cinzia forse attivato la zoom non si e quindi quando praticamente stiamo conoscendo una persona stiamo flertando oppure durante una relazione noi non possiamo cioè tendiamo a siccome conosciamo solo quella forma di amore lì quindi l'amore materno cioè tendiamo a comportarci come delle madri verso i nuovi ragazzi verso le nuove persone che incontriamo e però questa cosa qua all'uomo se magari inizialmente può far piacere ecco la cinzia se magari inizialmente può far piacere poi diciamo che l'uomo tendiamo ad essere mamme è vero l'uomo però io ho avuto insomma diverse esperienze l'uomo non vuole una mamma cioè all'uomo piace questa cosa del dare ma se poi diventiamo delle mamme o delle coach peggio ancora perché molto spesso soprattutto all'inizio di una relazione noi donne siamo molto insicure di noi e ditemi se non è vero tendiamo a voler mostrare all'altro tutti i nostri pregi tutto quello che sappiamo fare tutto ciò che ci abbiamo per essere e quindi andiamo a strafare praticamente e a comportarci come invece si comporterebbe un uomo alcune donne vanno anche a prendere gli uomini a casa so io non mi sognerei mai di fare una cosa del genere però prima anche io c'ero cascata in questo in questo trappolone diciamo del voler cioè ho detto sì se io gli do tutto quello che conoscegli do in continuazione e faccio questo faccio il massaggio cioè questo uomo sicuramente mi apprezzerà però se già noi partiamo in partenza partiamo in partenza scusate il giorno di parole con questa mentalità del se faccio questo ottengo quest'altro vuol dire già che stiamo partendo con il piede sbagliato perché cioè nessuno all'infuori di noi può decidere quanto valiamo e questa è la prima cosa che voglio che sia chiaro cioè non è un uomo a decidere il tuo valore ok non sarà mai un uomo a decidere il tuo valore scusate ogni tanto sto guardando perché sono in un bosco e devo vedere se ci sono animaletti o cose strane perché i miei cani sono molto a volte un po' aggressivi e quindi già che già se noi cerchiamo che sia un uomo a diciamo a validarci a trovare il nostro già questo non va bene perché vuol dire che noi da sole non ci non ci stimiamo no invece la prima forma di di amore deve essere quella per noi stesse io ve lo dico sempre amati per amare c'è un detto bellissimo appunto amati per amare cioè se tu a parte che l'energia che emetti con quest'uomo sarà un'energia di scarsità un'energia di appiccicamento se c'è presente proprio di appiccico capito perché dice farai tutto pur di compiacere questo magari lui ti chiede delle cose che non rientrano nella tua etica non rientrano nei tuoi valori ti chiederà di magari c'è un progetto importante e questo ti chiede di lasciarlo perdere perché devi seguire quello che fa lui o cioè non è non bisogna comunque essere io lo dico sempre durante i primi appuntamenti soprattutto quando si sta per conoscere una persona la cosa più importante da fare ecco perché ritornando al post è essere delle spettatrici delle osservatrici di quello che ci circonda non che subito wow ho trovato la mia anima gemella maronna mia come mi pulsa il cuore come c'è sento questa chimica questa attrazione fortissima ma certo ci sta a parte che ieri ieri sera io ho un gruppo che si chiama brilla comunadea in cui faccio delle dirette più approfondite di queste qui e ieri abbiamo parlato proprio del perché si scatenano queste reazioni chimiche molto spesso si scatenano proprio perché siamo state ferite abbiamo delle ferite interiori e di conseguenza come una droga queste questa sensazione adrenalinica si attiva quando riconosciamo in un'altra persona delle una persona che ci ha fatto che ci ha ferito per esempio ci abbiamo avuto un padre disfunzionale un padre che ci ha abbandonato comunque che non è stato presente emotivamente quando incontriamo un ragazzo che ci abbandona e che ci tratta di schifo tendiamo a il nostro subconscio lo riconosci come una cosa familiare perché il subconscio non è che ragiona è semplicemente ragiona modo suo e dice ah perfetto questo è l'uomo per te perché questo è la forma di amore che tu conosci la forma di abbandono quindi tenderai a anche a sprigionare ad avere delle relazioni chimiche buonasera donatella che ti faranno attrarre quest'uomo come una calamita e comunque tutti gli uomini magari narcisisti o che comunque ti tratteranno male quindi ritornando al discorso delle di riuscire a che mi hanno scritto molte ragazze sì ma io non ci riesco a diciamo a ritornare nella mia energia femminile a stare tranquilla e invece ci devi riuscire perché prima di tutto devi capire questo che se ti sta scattando qualcosa di chimico devi pensare che ci potrebbe essere questa dinamica questa dinamica del dell'abbandono del fatto che tu riconosci come amore come forma di amore la band cioè riconosci l'abbandono come forma di amore quindi magari tu non sarai mai attratta da dei ragazzi che invece saranno amorevoli e vorranno prendersi cura di te perché hai questo questo programma subconscio perché ricordati che tutto quello che succede la il 90 per cento delle nostre azioni è attivato dal nostro subconscio non dalla nostra parte razionale l'ho spiegato proprio ieri sera nella mia diretta sul gruppo infatti c'erano c'erano cinzia e meri che lo sanno benissimo quindi devi stare attenta e come fai a entrare nella tua energia femminile semplicemente sapendo che appunto c'è questa che devi essere semplicemente devi devi essere distaccata una donna di valore una donna con una femminilità forte che è una femmina c'è una dea è una donna che è è molto diciamo terrena cioè è molto obiettiva che guarda la realtà oggettivamente non si fa troppi che noi siamo abituati a mary il sole ecco e purtroppo c'è no dicevo una donna evoluta una donna emancipata una dea mi piace usare il termine ed è è una donna che è ancorata molto alla realtà che non si fa troppi film perché comunque è bellissimo usare l'immaginazione ma molte volte è meglio guardare in faccia la realtà così com'è senza farsi troppi film i film perché noi abbiamo questo problema nella nostra società abbiamo dimenticato una cosa importantissima e indovinate qual è vivere il presente questa cosa qui voi mi domandate ok come faccio a se mi piace uno a starmene tranquilla e a a non fare a non farmi prendere dal fare 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 semplicemente ricordati del tuo valore come donna ricordati di te stessa che non hai bisogno assolutamente di nessuna validazione da nessun uomo ma da nessuno in generale c'era una volta una puntata dei simpson un tizio gli ha detto a lisa lisa simpson ha detto lisa tu lo sai che vivi per far contenti gli uomini la tua vita sarà all'insegna di far felici gli uomini ed è vero cioè poi simpson nel loro essere scherzosi sono sempre molto perspicaci e vanno dritto al punto lo vedrai dopo quando sarò finito ok e quindi noi dobbiamo stare molto attenti a queste dinamiche che a queste soprattutto si tratta di ferite a livello di inconscio collettivo io le chiamo così cioè a livello di inconscio noi tendiamo come donne aspetta adesso vi metto in un punto dove mi potrete vedere bene a livello di inconscio collettivo noi abbiamo queste ferite abbiamo la ferita dell'abbandono la ferita della diciamo spesso ci attraggono appunto le persone emotivamente non disponibili perché comunque nella nostra famiglia abbiamo avuto dei genitori che non sono stati presenti molto a livello emotivo ma io non voglio ovviamente dare la colpa ai genitori figurati è semplicemente che non sappiamo bene come amare i nostri genitori non sapevano come amarci hanno fatto il possibile e continuano a fare il possibile però ognuno ha i suoi mezzi per amare non è che tutti sanno amare allo stesso modo magari io per esempio interpretavo alcuni silenzi di mio padre come una sorta di rigidezza e di freddezza nei miei confronti poi ho scoperto che quei silenzi erano semplicemente perché lui non sapeva cosa dirmi non aveva gli strumenti quindi questo è cioè la realtà ha veramente mille sfaccettature con cui cioè tante lenti cioè la realtà la si può interpretare attraverso tantissime lenti diverse e ritornando al discorso della femminità la prossima volta che ti capita di avere queste cioè di voler strafare o di voler dimostrare chissà chi sei stai tranquilla stai nella tua energia femminile rilassati io valgo da sola non c'è bisogno dell'approvazione dell'uomo respira ecco io siccome quando facciamo così mandiamo un sacco di energia verso l'esterno cioè la nostra energia esce fuori noi abbiamo un corpo energetico no? la nostra energia che succede esce fuori dal corpo e si propaga all'esterno quando siamo troppo focalizzato su che cosa sta pensando quello di me o in generale quando stiamo sempre a pensare all'esterno quindi innanzitutto cosa faccio? faccio un bel respiro ricevo e mi calmo quindi cerco di rimandare tutta l'energia verso di me di nuovo dentro di me nel gruppo Brilla Comunatea ho proprio un corso sulla sensualità sulla femminilità e su come applicare queste strategie molto pratiche vi metto il link qua sotto quindi bisogna rilassarci stiamo più rilassati perché l'energia femminile è un'energia dell'essere essere vuol dire goderci il momento presente quindi se magari stiamo a contatto con un uomo che ci piace godiamo di quello che sta dicendo cioè ridiamo alle sue battute gli uomini adorano quando noi ridiamo agli uomini piace tanto a me tanti uomini mi fermano per stare mi dico mamma mia cioè hai un sorriso bellissimo sorridiamo di più sorridere tra l'altro manda dei segnali al cervello che sta tutto ok che è tutto a posto ti aiuta a rilassarti quindi sorridi agli uomini piace quando noi sorridiamo quindi se stai in ansia non serve perché non piace agli uomini l'ansia loro già sono troppo mentali già hanno una mente che spazia nell'infinito e oltre non hanno bisogno di altra ansia quindi stai tranquilla stai rilassata respira senti magari la sensazione dell'aria cioè concentrati proprio su di te sul tuo corpo sulle tue sensazioni quindi senti ad esempio se state fuori all'aperto come adesso io in questo momento senti la sensazione dell'aria che ti sfiora il viso senti gli odori che ci sono in giro proprio gustati il momento presente magari c'è un bel cielo che vi circonda e fai delle apprezzamenti di come ti senti proprio senti connettiti con il tuo sentire perché gli uomini adorano entrare in contatto con noi con le donne cioè gli uomini adorano le donne perché fondamentalmente noi siamo molto più in contatto con il nostro corpo rispetto a loro che stanno più in contatto con la nostra mente quindi a loro non serve che tu parli troppo io per esempio prima parlavo tantissimo perché devo dimostrare questo questo so quest'altro adesso cioè certo non è che se intavolo una discussione con l'uomo sto zitta però parlo di meno comunque le mie frasi ho visto che sono molto più brevi perché prima magari parlavo perché volevo fare colpo volevo dimostrare quanto sapevo perché dicevo ammazza se mu questo pensa oddio questa è una che sta un sacco di cose muo me la e invece no io adesso sto tranquilla rilassata me la godo pure di più perché se stai si stai ascoltando una persona con il desiderio cioè con la risposta pronta non nemmeno va bene invece mi gusto di più anche proprio l'ascolto cioè che cosa ha quella persona da dirmi mi guardo i suoi movimenti me lo studio me lo insomma è più bello no c'è sta meno fatica vediamo Cinzia che scrive perché gli uomini sono emotivamente non disponibili anche questa è una ferita sì perché ti ripeto a livello di inconscio collettivo c'è questa ferita dell'abbandono e del cuore chiuso soprattutto ma questo ve lo riservo ad un'altra puntata Mary ciao quindi ecco se vi è stato utile questo video io questo lo pubblicherò anche sul mio canale youtube quindi iscriviti al canale tocca la campanellina che sta qui in basso a destra mi hanno fatto notare che non sanno dove sta la campanellina di youtube tocca la campanellina così ogni volta che farò un nuovo video verrà avvisato iscriviti anche al mio gruppo voi che già mi state guardando non c'è bisogno riscoprire la tua bellezza con Geo e poi se vuoi approfondire e vuoi seguire i miei corsi dal vivo scusami i miei corsi live con le facebook live proprio approfonditi c'è anche il mio gruppo che si chiama Brilla come una dea ti lascio il link qui sotto ragazze vi do un bacione e scrivetemi qua sotto nei commenti come vi comporterete la prossima volta a che cosa penserete ed ecco una cosa che puoi pensare a cui puoi pensare che ti dà rilassatezza che ti dà quel senso di io la chiamo di sciallatezza quando stai con un uomo che ti può diciamo far ritornare nella tua energia femminile un bacione che ti dà